Questa è la bella e interessante chiesa di San Giorgio Maggiore che praticamente sta tra Via Duomo e Forcella che è interessantissimo per tutto quello che ha all'interno, ma soprattutto per questo sagrato marciapiede che fantasiosamente, come potete vedere, è questo che mi piace documentare, può diventare un campo da calcio e le note che vi dica che quella e quelle sono le porte, però è veramente fantastico sotto un certo punto di vista qui c'è il San Gennaro di Iori Tagocca e naturalmente questa scritta che ci ricorda che esiste anche Forcella con le sue esigenze, tra cui quella di far giocare i bambini, ancora una volta è la chiesa che provvede anche per loro Un saluto da Napoli